Ora ora ora! Ora ora ora! Tutte stanno tutti i piedi! Tutte i piedi hanno fatto come tolta! La bella sciatta sulla vida! Quando fai un punto a rovesciata a foot volley non dormi per giorni, solo che io non so giocare a foot volley, quindi ho avuto tantissima fortuna. e non sono neanche sicuro che ho fatto punto forse perché io sono caduto a terra ed era tra linee fuori non si è capito Dani ha fatto così, ha insultato quasi come per dire guarda non lo so se è punto, ma ti faccio un bel regalo quindi grazie del regalo Dani io guarda, penso pure a livello caratteriale sono molto simile a Guain siamo forti, uguali a calcio tu hai mai visto Guain a me nello stesso posto? fatti delle domande stessa barba io lo faccio così, ho una doppia vita di giorno e di domenica sono i Guain e il resto della settimana sono un scemo no, Italia's Got Talent la registreremo l'anno prossimo e sono ancora molto poco perché manca tanto però mi auguro di esserci e penso di esserci ok? grazie